15 anni sono tanti ma per me è come se fosse successo questa mattina, anche il tempo è lo stesso di quella domenica mattina. E a 15 anni di distanza da quel drammatico 2 marzo in cui perse la vita il sovrintendente capo della Polizia di Stato Emanuele Petri e rimasero coinvolti colleghi Bruno Fortunato e Giovanni Di Fronzo che a Castiglion Fiorentino si sono svolte le commemorazioni in memoria di Petri, medaglia d'oro al valore civile. Un'ora della pace ha dato la vita per la democrazia, per la libertà, per l'espressione dei diritti e libertà di tutti i cittadini, quindi è un esempio che noi ce l'abbiamo nel cuore e ci dà la forza per andare avanti e per sentirci sempre come tutela, protettori dei diritti e delle libertà dei cittadini. Emanuele Petri fu ucciso durante un normale controllo su un treno interregionale Roma-Firenze da due terroristi, risultati poi facenti parte delle Brigate Rosse. Dopo 15 anni porto dentro il ricordo di una persona che non ha pensato due secondi su quello che doveva fare in quel momento, consapevole che comunque tutte le volte che usciva di casa potevano trovare un pericolo di fronte. E nonostante questo lui quella mattina non ci ha pensato due secondi a fare quello che il suo senso del dovere di imponere. Castiglion Fiorentino ha così ricordato Petri prima con la Santa Messa ufficiata dall'arcivescovo Riccardo Fontana e poi con la deposizione di una corona di alloro in piazza della stazione intitolata allo stesso Petri. In molti ci domandano come è possibile che a distanza di 15 anni ci sia questa calorosa e affettuosa partecipazione alla cerimonia che ricorda il sovrintendente Emanuele Petri. Credo che sia qualcosa di assoluto spontaneo che viene da tutte le due le comunità di Tuoro e di Castiglion Fiorentino e credo anche che continueremo a scomodare Alma che non si tira mai indietro perché mai come adesso il tema della difesa di coloro che indossano la divisa è diventata attuale. Commemorazioni quest'anno più che mai attuali anche in virtù degli episodi che si sono verificati in questi ultimi giorni e che hanno coinvolto le forze dell'ordine. Uno su tutti il caso dell'insegnante di Torino che ha inveito e gridato contro i poliziotti dovete morire. Ma non è che ho molto da dire con l'insegnante vorrei solo fare una lezione magari di legalità nella sua scuola dove insegna che cosa insegna poi a ragazzi non lo so però mi piacerebbe davvero andare con lei nella scuola dove insegna e insegnare la legalità e da che parte stare.